Allora, Presidente Demetrio Delfino, nessun tradimento, nessun dissenso, ma semplicemente la voglia di un chiarimento. Però diciamo che la situazione si poteva prestare a diverse letture. Adesso chiariamolo direttamente e togliamo ogni dubbio in merito. Sì, assolutamente. Togliamo dubbi anche perché mi pare che sia io che i colleghi fossimo stati abbastanza chiari nel ribadirlo. Infatti abbiamo iniziato il discorso dicendo proprio che non abbiamo nessuna intenzione di fare un gruppo nuovo o nessuna intenzione di uscire dalla maggioranza. Siamo dentro questa maggioranza dal primo minuto, l'abbiamo sostenito e così continueremo a fare. Il nostro, ripeto, era un campanello d'allarme su una maggioranza che si era un po' assopita negli ultimi tempi. Siccome appunto le elezioni sono vicine, gli avversari politici fanno la loro parte, anche noi dobbiamo riunirci, unirci come una pigna ed andare avanti. Siccome ultimamente c'era un po' di distrazione abbiamo voluto suonare la carica. Questa era l'intenzione. Il problema è che in questa città non si è abituati ad una politica sana perché ogni qualvolta qualcuno esprime liberamente e in maniera pubblica le proprie opinioni si pensa che ci sia sotto chissà che cosa e il regino medio pensa che usavo che ci cercavo e non ci resti e cose del genere. Questa cosa non ci appartiene. Qualcuno di noi ha anche lasciato delle deleghe per strada per poter dire la propria. Quindi sicuramente non ci appartiene questo tipo di politica. Ribadiamo, ci ribolle il sangue del fatto che abbiamo capacità, strumenti per fare bene e meglio e per riconquistare nuovamente la città. E però dobbiamo sederci tutti ed affrontare questa situazione insieme con la serenità ma anche la nettezza, l'onestà intellettuale di dire le cose come stanno, ciò che non è andato finora, ciò che dovrà andare per forza di cose da qui in avanti. Semplicemente questo. Andiamo nel concreto. Voterete il bilancio tutti e quattro? Allora, come ho detto in conferenza, il bilancio è una questione di numeri. Tra l'altro abbiamo un dirigente molto molto bravo e professionale che firmerà il bilancio se il bilancio sarà in equilibrio. E una volta che il bilancio è in equilibrio e sarà firmato da un dirigente di cui abbiamo piena fiducia è chiaro che il bilancio si voterà. Ecco, la presenza di Giuseppe Falcomatà. Molte sono state le letture, fra cui la mia. Assolutamente non è codardia politica, non è voler intimorire, secondo noi, né tantomeno calmierare gli animi, ma semplicemente guardarsi in faccia. Anche perché oltre al percorso politico siete anche amici. Insomma, quindi non mi sembra una cosa così grave. Ecco, secondo lei, da questo incontro tra un gruppo di persone che voleva comunque essere ascoltato e comunicato, il sindaco ne esce più rafforzato o indebolito? Ma sicuramente, se si capite, il senso del nostro agire ne esce assolutamente rafforzato insieme a tutta la maggioranza. Perché adesso bisogna raccoglierci tutto intorno e andare avanti e remare dalla stessa parte. Se non si è capito questo, è chiaro che certamente il problema rimane. Ma conoscendo i soggetti in campo, credo si sia capito e non ci può che essere unità di intenti, perché altrimenti ci facciamo del mare da sole non è il caso. Ecco, il mio hashtag è un po' provocatorio, ma anche sentito, perché poi siamo anche liberi anche noi giornalisti. Io sto con Falcomatà, lo condivide? Ma certamente. Allora, personalmente, ma anche i colleghi, già dalle primarie l'abbiamo condiviso. Siamo stati con Falcomatà al fianco, lo abbiamo portato nei quartieri per farlo conoscere, per chiedere i voti per le primarie. Poi ci siamo candidati, ognuno rispettivamente nei propri partiti, abbiamo portato i voti, abbiamo fatto quello che era il nostro dovere, cioè sostenere il nostro candidato al sindaco, che abbiamo fortemente voluto. Quindi questa cosa non passa. Io capisco che ognuno cerca di strumentalizzare, però siccome qui si tratta di persone per bene, la strumentalizzazione la rispediamo al mittente e noi siamo per la città e per un'amministrazione che è trasparente anche quando ci sono dei dissidi, perché dei dissidi che sono su cose amministrative e non su altro. Quindi su questa cosa veramente siamo fieri e orgogliosi per la prima volta, forse, che un gruppo di persone, di consiglieri, dice a voce alta come la pensa, cioè lava i panni sporchi in pubblico, però senza nessuno scheletro nell'armadio, senza retropensieri. Credo che debba essere la politica sana che vuole questa città, altrimenti si creano sempre inesattezze, ognuno interpreta a proprio modo la questione e non si va da nessuna parte, perché rimane sempre la cultura del sospetto che purtroppo in città aleggia pesantemente. Ecco, un'ultimissima domanda. In caso di dissesto viene messa in discussione la ricandidatura di Falcomatà ed eventualmente si andrà a delle primarie oppure comunque rimarrà il candidato a sindaco come da statuto il sindaco uscente rimane il candidato naturale? Ma anche qui il dissesto è colpa di Falcomatà o dall'amministrazione Falcomatà? Assolutamente no. Viene in un momento in cui c'è al comando... E' confermato Falcomatà. Esattamente, perché chi non ha colpa perché deve pagare? No, è chiaro, questo mi sembra assolutamente chiarissimo, non c'era bisogno neanche di spiegarla sta cosa. Il dissesto viene dall'emergere di nuovi debiti che nessuno aveva prima scritto in nessun bilancio. Vedi il debito regionale da 80 milioni sull'itrico che non sai dove prendere. Viene da una sentenza, da una pronuncia della Corte Costituzionale che dice che il debito non lo possiamo più spalmare in 30 ma in 10 e questo è chiaro che ti mette in difficoltà. Quindi se verrà il dissesto mica è colpa di questa amministrazione, è colpa di una serie di eventi che ci sono proprio caduti sulla testa. Bene, ringraziamo il Presidente del Consiglio, Demetrio Delfino. Noi per quello che conta lo riconfermiamo, quindi non lo mettiamo neanche in discussione. Aspettiamo che la città, come spesso diciamo, si risollevi. Io sto con Falcomatà, ma noi personalmente stiamo con chi aiuta a crescere questa città che tutti quanti amiamo e su questo dubbi non ne deve avere nessuno. Sì, infatti è proprio questo il messaggio. Chiaramente il metodo è nuovo, è diciamo inusuale e per questo ha destato tanto scalpore. Però io credo è importante assolutamente chiarire e poi dimostrare con i fatti quello che verrà. Grazie.